Magistris? Io penso che innanzitutto con Di Matteo non sarebbe mai accaduta questa scarcerazione di oltre 400 pericolosi criminali. Quindi su questo lo darei per certo, perché la competenza professionale e l'attenzione non avrebbero mai portato a una decisione così assurda ancora di più in tempi di pandemia. Perché una delle motivazioni è il pericolo di contagio del detenuto al 41 bis. Credo non c'è luogo più sicuro per non farsi contagiare da questo virus il 41 bis. Quindi non ha nulla a che vedere con il sovraffollamento delle carceri. Perché non vedi nessuno e non puoi vedere nessuno. Perché non vedi nessuno.